ben trovati amici di le fonti tv eccoci pronti dopo la nostra sigla con una nuova puntata di no haber tutte le voci della formazione il nostro appuntamento consueto che racchiude in sé tantissime parole che andiamo a declinare sempre a 360 gradi attraverso diversi temi e argomenti le parole le elenchiamo una dopo l'altra formazione appunto in primis conoscenza apprendimento e istruzione prendiamo tutti questi concetti tutti questi termini perché oggi in questa puntata dobbiamo aggiungerne un altro che sarà il vero protagonista del nostro focus del nostro appuntamento naturalmente questo nostro format è in collaborazione con Rebis e con me in studio c'è Manuel Minati amministratore unico di Rebis grazie per essere con noi grazie a te bentrovato e allora la parola si vede già in sovrimpressione però la voglio dire proprio la voglio scandire metaverso la dobbiamo proprio associare a tutte tutte le parole coelio nicato cosa c'entra il metaverso con la formazione diciamo che il metaverso una delle nuove frontiere attraverso cui le aziende possono e potranno sviluppare le competenze dei propri collaboratori oggi è una parola in alcuni casi sta diventando una vera e propria attività una vera e propria azione formativa però questi casi sono ancora molto pochi se ne parla ma all'atto pratico poi manca sempre qualcosa se ne parla all'atto pratico manca qualcosa anche perché non nascondiamolo c'è una barriera all'investimento tecnologico quindi sviluppare un metaverso efficace richiede un investimento tecnologico oltre che strategico certo allora si dice e poi andiamo a svelare chi sarà con noi in questa puntata che entrerà un po più nel merito si dice che l'essere umano nel corso della sua vita non smetta mai di imparare perché tanto perché tutti noi ogni giorno abbiamo esperienze nuove raccogliamo delle esperienze nuove ma perché si è inserito in il contesto della formazione e dell'apprendimento la parola tecnologia ed è qui che voglio che voglio arrivare la tecnologia svolge ormai un ruolo importantissimo fa da intermediario da interlocutore insomma questo ci aiutano a evolverci ancora più rapidamente sì diciamo che la tecnologia si è sviluppata nell'ambito della formazione un po sotto la spinta di quello che è stato il covid molti percorsi formativi si sono dovuti riposizionare in un ambiente virtuale all'inizio è stata una videoconferenza oggi il passo evolutivo è quello del metaverso che non è più solamente uno strumento ma diventa proprio una metodologia formativa con delle caratteristiche peculiari che lo differenziano dalla formazione in presenza certo e allora prima sveliamo una diamo una curiosità perché abbiamo cominciato tutti a parlare di metaverso quando ha cominciato a parlarne facebook no e quindi insomma il più grande social media o comunque quello più utilizzato ha cominciato a far circolare questa parola però la prima volta che venne utilizzata la parola metaverso pensa che fu nel 1992 dobbiamo tornare indietro di tantissimi anni fa 30 anni fa ed è quasi impensabile pure così perché un termine coniato da neil stevenson in un libro appartenente alla cultura cyberpunk che si chiama snow crash e l'autore proprio descriveva questa sorta di realtà virtuale condivisa attraverso internet dove si è rappresentati in più dimensioni attraverso l'avatar e quindi si parla da lì insomma nel 90 diciamo che fa impressione pensare che sia qualcosa che ha 30 anni e però allo stesso tempo ci fa capire come alla fine il pensiero umano abbia già degli orientamenti poi ci mette degli anni a sviluppare è vero è vero ed è il momento però di trasformarlo anche in pratica perché altrimenti i concetti sono belli ma restano semplicemente scritti chi sarà con noi tra pochissimo beh allora ho avuto il piacere di rinvitare loretta chiusoli di cliff boom cliff in particolare che è uno dei pochi casi concreti di applicazione della formazione all'interno di un ambiente metaverso e quindi ci racconterà un po la loro esperienza quindi esperienza pratica sul campo che quello che vogliamo proprio dimostrare perché la formazione pratica non è solo teoria no quindi questo è un esempio veramente concreto e quindi manuel tra pochissimo partiamo con 20 con questa esperienza a tra poco manuel minati allora siamo pronti per entrare proprio nel nel merito e manuel minati ha già introdotto virtualmente posso dirlo perché oggi ci sta perfettamente la nostra ospite la protagonista di questa puntata di no haber perché ci racconterà un'esperienza concreta che a che fare col metaverso eccola è apparsa è un gradito ritorno nel nostro formato loretta chiusoli corporate hr director di cliff bentornata con noi grazie grazie dell'indito e grazie per questa puntata su questo argomento così nuovo intrigante è sì è veramente intrigante allora ma lo diceva poco fa partiamo da qui manuel powered by cliff è una società d'alta vocazione formativa non a caso appunto loretta è già stata nostra gradita ospite nel nel programma e sui propri collaboratori insomma è molto importante questa questa parte come si inserisce la formazione però in metaverso come l'hai definita tu loretta molto accattivante anche percorsa ancora da poche aziende non sono tante che praticamente poi seguono questo percorso come è nata soprattutto l'idea di utilizzarla da voi grazie allora noi diciamo che abbiamo attivato poche settimane fa fisicamente qualche mese fa digitalmente questo hub che si chiama pullback che è un hub dedicato alla formazione e all'innovazione nell'ambito della nostra società criffa criffa è una realtà che esiste da più di 30 anni con una forte vocazione verso i dati e la digitalizzazione informatiche servizi ad alto valore aggiunto e quindi a un certo punto ha deciso di indottarsi di uno spazio dedicato alla formazione e all'innovazione da qui nasce buono spazio aperto anche a tutti i partner di criffa e una delle missioni di boom è quella di sviluppare programmi di formazione molto collegati alla tecnologia all'innovazione ci piace pensare di occupare questo spazio di sviluppare programmi innovativi proprio per sperimentare oltre che per fare appunto formazione da qui nasce l'idea quindi di lavorare con il metaverso che è un ambito che esploriamo anche grazie alla nostra unità di innovazione da diversi mesi ma che poi veniva trattato molto in teoria e poco in pratica quindi ci siamo detti ma perché non creiamo uno spazio in una piattaforma e abbiamo scelta una delle tante possibili perché il concetto di metaverso oggi è un concetto fatto da tante che ha forme in 3d diverse ne abbiamo scelta una e qui abbiamo costruito il nostro mondo virtuale che in questo momento stiamo usando sia per una formazione in criffa sia per i progetti di boom che sono rivolte alle aziende e diciamo terze questo spazio che vedete è uno spazio che può essere altamente personalizzabile dalle aziende che decideranno di approcciare questo tipo di esperienza in termini di contenuti loghi colori che ha l'obiettivo un po di ricreare lo spazio che le persone vivono fisicamente nella propria azienda proprio per far sentire le persone che entrano in questo spazio in una cosiddetta realtà virtuale cioè una simulazione di una realtà fisica ovviamente questo tipo di approccio ha tantissime opportunità nel modo della formazione esistono studi che mostrano come le persone ingaggiate in questo tipo di ambienti aumentano addirittura al 400 per cento la capacità di apprendimento questo perché mettono in tutto una serie diciamo di capacità e competenze che sono più limitate in un ambiente digitale quale può essere una conference call o diciamo le sale che siamo abituati ad avventare oggi inoltre il livello di confidenza in questi spazi sull'apprendimento cresce perché le persone hanno diciamo la capacità di vedere più concretamente i 3d appunti contenuti pensiamo alla formazione di prodotti e servizi in fide c'è anche proprio è una capacità di tenere più alta la motivazione e l'affinzione tutto questo da cosa passa passa dal fatto che ogni persona si crea il cosiddetto avatar vedevate prima appunto delle figure e che rappresentavano in questo caso specifico la mia persona un altro collega e quindi diciamo attraverso l'avatar si costruisce proprio una identità digitale già uno si praticamente proietta in questo mondo con una nuova identità come sono visto scusate ti faccio una domanda un po di colore mamma mi piace chiedertelo quando ti sei vista trasformata nel tuo avatar ma soprattutto in modo così dinamico perché queste immagini ci hanno mostrato davvero una realtà è vero virtuale ma insomma sembrava quasi tangibile no qui tu che ti muovevi in questi spazi com'è stato vederti ah è stato diciamo divertente ma al contempo non si deve anche abituare no perché alla base di questo tipo di esperienza c'è il concetto di gaming che viene portato in modo molto diretto dentro la formazione perché noi abbiamo già sperimentato la creazione degli avatar all'interno della nostra venda e prima magari ci può essere un po di imbarazzo così un po di anche timidezza nel approcciarsi a questi strumenti ma poi la creatività e anche il gioco hanno diciamo la prevalenza quindi diventa una situazione in cui uno può anche inventarsi in un modo diverso in un modo diciamo ideale la propria immagine la propria anche diciamo dimensione fisica no le proprie caratteristiche certo poi ecco manuel minati al di là poi del fatto che ciascuno può ricrearsi no già questo è qualcosa di straordinario però insomma i numeri che ci dava loretta sono incredibili c'è davvero le performance la capacità di apprendimento l'attenzione perché poi rientra tutto immagino no poi magari su questo torniamo anche da loretta aumentano di tantissimo del 400 per cento diceva direi che il tema dei numeri è sempre importante io credo che sia molto importante il tema del coinvolgimento che da cui poi nascono i numeri certo cioè il grande difetto della formazione molte volte quella di non coinvolgere le persone che partecipano qualunque metodologia si usi che sia il coaching individuale o che sia il team building certo se il metaverso riesce ad aumentare il coinvolgimento di chi partecipa automaticamente col coinvolgimento aumenta l'attenzione aumenta la propensione a riflettere su quello che si sta imparando in quel momento e quindi il miglioramento benessere poi abbiamo parlato tante volte anche in altre puntate ora abbiamo semplicemente aggiunto un elemento che probabilmente diventerà non si sa in quanto tempo non so se loretta più o meno ci può rispondere diventerà parte integrante poi anche dei processi aziendali loretta si può fare una stima su quanto tempo ci impiegheremo poi ad adottare questi nuovi queste nuove opportunità questa è infatti la domanda più importante no che se si legge un po diciamo di articoli su questo tema viene stimato in un tempo dai cibo ai 10 anni però il fatto è un po la sfida perché più persone adotteranno questo tipo di tecnologia faranno esperienze esperimenti più integreranno questo aspetto nei processi perché si legge già anche di attività di recruiting attività non di non escele all'interno dell'azienda quindi non solo formazione ma tante altre attività che vanno sostanzialmente a vedere il metaverso con una modalità immersiva più coinvolgente come dice appunto Manuel Minati rispetto a tutta l'attività digitale del digital workplace che oggi si è sviluppata post pandemia quindi un modo per guardare il metaverso è questo cioè pensando con una modalità per avere qui quel coinvolgimento che spesso si perde non nell'attività digitale che tanto è diventata la base delle attività autentrata poi il divertimento la curiosità cresce e mi viene da dire che cresce tanto più le generazioni coinvolte sono generazioni non legate a generazioni Z al millennial magari usano i visori questa modalità nel tempo libero noi abbiamo visto che lavorando su persone con età diverse c'è un livello anche di interesse nel suo cuore molto alto perché non sono abituate ad approcciarsi a questi strumenti e inoltre aggiungo anche che è interessante pensare a una progettualità aziendale che dia proprio opportunità pratiche lo si può fare in tanti modi noi ad esempio abbiamo legato eventi a momenti di formazione a momenti anche diciamo aperti all'esterno proprio per cercare di ottimizzare come si diceva prima gli investimenti cercando magari di utilizzare una tecnologia già pronta come può essere questa di Bulma e cercando di adattare i contenuti e i colori formati in loghi al proprio ambiente naturale cioè è molto facile trovare contenuti già pronti ad esempio abbiamo con Manuel Minatti sviluppato percorsi di leadership dove i leader percorrono momenti storici incontrano personaggi storici e ricevono diciamo come dire lezioni di leadership attraverso una storia quindi anche un aspetto che viene messo in gioco è un elemento di curiosità legato a personaggi famosi che magari non sempre sono conosciuti in tante spaccettature della loro vita ecco questo per dare un'idea certo certo ecco Manuel tra poco ritorno da te però ancora con Loretta volevo indagare i benefici che poi ne derivano ne abbiamo già detti un po' anche con Manuel però proprio dell'uso del metaverso per il mondo e i char visto che parliamo di te direttamente insomma cosa quali sono se dovessimo fare una sorta di classifica gli elementi principali che ti senti di condividere con noi i benefici noi posso raccontare un po' dei processi dei benefici che teni l'uno in breve no? allora da un lato ad esempio l'ambiente che abbiamo visto può essere usato per sessioni di recruiting se uno pensa alla capacità e alla possibilità di toccare rapidamente tanti gli uomini della generazione deve lanciare ad esempio un evento di recruiting basato con i visori con l'opportunità di interagire nel metaverso creando attività ad esempio creando non so una case study da discutere in un certo spazio poi incontrando un avatar della messa legato in alto potendo creare una propria presentazione da raccontare agli altri partecipanti ecco questo può essere un'idea molto pratica di attività che può portare il recruiting quindi un'attività proprio di raccolta diciamo di candidature su una dimensione completamente diversa e molto più divertente un altro esempio che a noi piace fare che stiamo sviluppando è tuttora un world questo lo pensiamo anche in una situazione come ad esempio noi siamo più di 5.000 persone abbiamo una sede di portare in Italia che non tutte le persone che vivono nelle sedi diciamo estremi magari non avranno mai l'occasione di venire e quindi ad esempio creare degli spazi che richiamino il nostro ambiente fisico e consentano le persone, i nuovi colleghi nelle diverse sedi di avere una sessione per conoscere i colleghi da headquarter e conoscere alcuni contenuti proprio di onboarding dell'azienda però vivendo l'esperienza, non ascoltando magari web ads un po' noiose o addirittura facendo dei learning questo può essere un modo nuovo per sentirsi parte di un ambiente che magari fisicamente non verrà mai colciuto aggiungo appunto il tema del training che è un po' considerato da tutti l'aspetto a più alta potenzialità nell'ambito del metaverso per gli elementi che citavamo e per l'opportunità di portare attività coinvolgenti nella formazione seppur una formazione digitale e tra l'altro il training si presta moltissimo se pensiamo anche a una formazione sia di nuove competenze sui temi dell'innovazione e della tecnologia perché nell'esempio stesso la mente che si finita ma anche se si pensa agli elementi soft come dicevamo prima proprio perché si sviluppa l'interazione attraverso gli avatar i colleghi possono interagire, scambiarsi diciamo opinioni crearsi dei momenti informali e formali si possono alternare le sessioni piuttosto che la formazione di prodotto e servizio perché ovviamente si possono riprodurre anche in 3D tutta una serie di momenti informativi specifici che vanno ad analizzare il prodotto nelle sue caratteristiche che si può vedere quindi visualizzare con tutta la dimensione del prodotto stesso che quindi consente un'immediata comprensione beh insomma viene da pensare che davvero Emanuele la lista sia in strada e le potenzialità anche io mentre Loretta parlava ho proprio segnato condivisione mi verrebbe da dire che davvero si abbattono le barriere di qualsiasi tipo anagrafiche ma anche tra persone con interessi diversi cioè è proprio qualcosa che mette d'accordo tutti stanno ad ascoltare poi l'esperienza diretta perché inutile nasconderlo all'inizio tutti ne parliamo poi in sostanza magari dentro di noi ci diciamo sì ma quindi insomma come funziona esatto invece ascoltando Loretta verrebbe da pensare questo no ma infatti credo che sia proprio quello uscire un pochino dal concetto di metaverso di moda al metaverso applicato vero dove sicuramente la leva diciamo così della moda è utile però poi bisogna che diventi qualcosa di concreto e chi lo fa concretamente poi ne trova i benefici assolutamente Loretta Boom ha avviato questo progetto as a service perché mette a disposizione già una piattaforma tu già accennavi qui e là delle cose però mi soffermerei ancora su questo perché il tema dell'investimento viene dunque ribaltato perché abbiamo la tecnologia che c'è e è a disponibilità del supporto dei fondi insomma come funziona raccontaci entriamo un po' più nel merito di questo aspetto sì e in collaborazione con Renvis e con una mano eliminata appunto qui presente abbiamo sviluppato un po' questo approccio che ci piace di cliente as a service per avere l'immediata comprensione cioè la possibilità per NERDN di sperimentare un utilizzo del metaverso usando un ambiente da noi creato con dei livelli di personalizzazione che come dicevo prima possono essere più o meno spinti a seconda della volontà dell'azienda di cambiare, adattare ai propri colori, loghi e contenuti però di fatto è un ambiente che è a disposizione già pronto per fare tutta una serie di attività che possono essere attività di training perché sono già presenti dei contenuti, dei video, dei percorsi come dicevamo prima sulla leadership ma anche percorsi diciamo qui iniziali per capire cosa è il metaverso per costruirsi l'avatar, per costruire un NFT è un altro strumento centrale del metaverso quindi diciamo ci sono tutta una serie di primi percorsi che consentono a qualunque azienda di sperimentare concretamente attraverso sessioni informatiche poi lo spazio è messo a disposizione può essere messo a disposizione anche per eventi abbiamo un'area che abbiamo chiamato X-World con questo ambiente che avete visto è un'area dove si possono invitare speaker quindi è proprio creata come se fosse con un palco quindi con la possibilità di avere appunto speaker che salvano sul palco fanno proprio speech con i partecipanti che possano interagire questo è un esempio c'è un'area più informale che abbiamo chiamato Green dove è possibile per i partecipanti di dal metaverso incontrarsi come dicevi prima sviluppare magari interessi scambiarsi commenti ma anche diciamo scambiarsi idee su ambiti di interesse comuni e magari facilitati dalla creazione di comuni e chi no da parte dell'azienda piuttosto che aree più tipiche per l'attività proprio di classe informazione dove le persone partecipano e c'è un trainer che le guida quindi ci possono essere anche momenti di formazione classica dove c'è in realtà il nuovo speaker che racconta e fornisce appunto dei contenuti di formazione e poi vengono svolte attività e infine è una sala meet che prevede l'attività tipica in sala riunioni con però funzionalità audio spaziali quindi partecipanti attraverso sempre gli avatar si muovono possono interagire e possono diciamo portare avanti attività comuni tipiche diciamo delle attività legate al meeting al gruppo di lavoro certo questi sono gli esempi concreti diciamo per ecco Loreta siamo in chiusura però ti chiedo quindi il mercato adesso va in questa direzione insomma no siamo oltre alla fase di sperimentazione credo per quanto vi riguarda io parlo ovviamente degli esempi pratici che ci hai portato tu noi come hanno eliminato poi credo lui potrà vincere gli davanti attivi e pronti a costruire percorsi che siamo riusciti anche appunto a finanziare quindi con tutto il supporto e la consulenza necessaria per rendere i veri i propri percorsi esatto esatto e Marlo vuoi aggiungere qualcosa prima di salutare Loreta poi noi abbiamo le nostre cose direi che è stata estremamente chiara credo che la parola sia concreta bisogna essere concreti altrimenti rimaniamo qui a raccontarci un sacco di belle idee poi per me possiamo trovarci anche tutti i giorni qui in studio ma il macerio di preas deve rimanere esatto però ci sono degli strumenti che la tecnologia ci dà che vanno usati nel modo giusto assolutamente assolutamente senza partire anche a volte con pregiudizi no capirai cosa no invece bisogna sperimentare per quello ho detto qui siamo oltre alla sperimentazione perché sono già state provate tante cose grazie a Loretta Chiusoli Corporate HR Director CRIF davvero grazie insomma avremo modo di risentirci sempre nostra gradità ospite ti ringrazio per averci chiarito tutto grazie a voi a presto arrivederci arrivederci Manuel tra poco le conclusioni come sempre no haber così insomma diamo anche qualche suggerimento in più ed eccoci alle conclusioni o per meglio dire Manuel Minate la morale della favola è una bella favola quella del metacelso no quale insegnamento possiamo trarre quale insegnamento possiamo anche cercare di trasmettere a chi ci segue ma direi più che altro un suggerimento il suggerimento è che come diceva la dottoressa Chiusoli nel suo intervento oggi ci sono degli strumenti già pronti per permettere alle aziende e Boom by Criff è uno di questi di provare questa esperienza e quindi sul campo capire se per la propria realtà aziendale noi siamo convinti di sì ma ogni azienda deve provarlo questo sia uno strumento efficace quindi non c'è più un problema di investimento tecnologico per entrare in questo ambiente bisogna semplicemente volerlo fare che questo già comunque è tanto nel senso che è incredibile non tutti visto che noi parliamo di formazione di conoscenza magari sapevano di questo aspetto ricordiamo sempre che voi vi mettete proprio a disposizione sì il nostro ruolo è da un lato quello di supportarle nella individuazione del fabbisogno nel soddisfarlo e se possibile anche di trovare le forme di investimento per sostenere l'investimento certo la prossima volta però servono i nostri avatar decisamente perché lo immagini il tuo avatar beh difficile migliorarmi quindi bellissima risposta questa volta mi hai mi hai dato tu insomma il colpo finale no va bene grazie a Manuel Minati amministratore unico di Revis grazie al quale insomma è possibile anche portare avanti questo format sulle fonti tv che davvero insomma aggiunge aggiunge dei tasselli importanti a quella che è la formazione se ne parla sempre di più quindi noi saremo sempre qui a farlo grazie a tutti voi per averci seguiti e rimanete sulle fonti tv grazie a tutti